Le veloci correnti da ovest provocano un minimo di pressione tra il Golfo del Leone, il Mar Ligure ed il Tirreno settentrionale. In Toscana, martedì 29 marzo, cielo nuvoloso sulle zone di nord-ovest e sull'Appennino settentrionale, poco nuvoloso o velato altrove. Venti traddeboli e moderati dai quadranti meridionali, mari in prevalenza mossi, temperature minime in lieve calo, massime in aumento, con punte fino a 19-20 gradi. In provincia di Lucca, nuvoloso, in miglioramento nel pomeriggio. A Lucca, temperatura minima 11, massima 18 gradi. A Viareggio, minima 11, massima 18 gradi. A Castelnuovo, minima 7, massima 16 gradi. A Castelnuovo, minima 11, massima 18 gradi.